Buon pomeriggio gentili telespiratori di Teleantenna, edizione flash del telegiornale che apriamo subito con la notizia che arriva da Porto Gruaro sulla morte di quel giovane in carcere dopo appunto essere stato colto da malore in carcere. Ho l'impressione che sia un altro caso Cucchi, Cucchi, l'altro Stefano morto a 30 anni mentre era in custodia cautelare, un caso che ebbe grande impatto, lo ricorderete, sull'opinione pubblica. A ribadirlo è Don Andrea Ruzzene che non lancia accusa, il suo è soltanto un presentimento. Da sabato non si dà pace per Stefano Borriello, il 29enne di Porto Gruaro, deceduto in seguito a un malore mentre era in carcere a Pordenone. Era in custodia cautelare da due mesi per la sospetta rapina. Purtroppo, afferma, riferendosi in generale alle istituzioni, è stato abbandonato, nessuno si perdeva cura di lui e sono stati fatti degli sbagli incredibili. Arriva di Tò. Il giovane bussava spesso alla porta della parrocchia della Beata Maria Vergine Regina in via Sardegna. A volte per parlare, altre volte perché aveva bisogno di assistenza. Giovedì scorso Don Andrea è andato a trovarlo in carcere, erano le nove e mezza, racconta, mi ha detto che non poteva venire perché aveva la schiena bloccata. Volevo andare in cella, entrare come ministro del culto, ma non è stato possibile. Una imprenditrice agricola, Donatella Poletti, 49 anni, è deceduta in seguito ad un ammalore mentre si trovava in vacanza con il marito Claudio Pizzolato all'isola di Pag, in Croazia. La coppia è partita in camper la scorsa settimana, la disgrazia è avvenuta lunedì sera, mentre la coppia stava cenando. La titolare dell'azienda Mela Molina, in provincia di Treviso, si è improvvisamente sentita male. Il marito ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma i tentativi del personale medico di tenerla in vita sono risultati inutili. Oltre al marito lascia i figli Stefano, 24 anni, e Alessandro, di 20. Trovati simboli misteriosi vicino alle abitazioni di Sandonà, sempre più preoccupanti. Residenti di Mussetta, soprattutto nella zona alle spalle dello stadio d'Avanzo, dopo i furti dei giorni scorsi, ora la testimonianza concreta che i ladri hanno preso di mira a questa zona della città, in particolare via Don Lino de Biasi, nei pressi di alcune abitazioni. È stato infatti ritrovato del nastro adesivo di carta con scritti dei simboli che molto assomigliano a quella sorta di codice utilizzato da determinate categorie di malviventi dopo aver effettuato un sopralluogo prima di compiere i furti. Una coincidenza inquietante con i furti già messi a segno che hanno spinto i residenti a segnalare il tutto ai carabinieri della locale compagnia. Ecstasy in discoteca, il Cursal di Lignano quindi rimane chiuso per due settimane. Lo ha ribadito lo stesso questore di Udine, Claudio Cracovia, che ha disposto la sospensione quindi dell'attività della discoteca Cursal di Lignano per 15 giorni. Il provvedimento, lo ricorderemo, è stato emesso ai sensi dell'articolo 100 della legge di pubblica sicurezza ed è stato notificato ai gestori del locale. La sospensione è stata decisa a seguito di alcuni episodi che hanno avuto come protagonisti dei minorenni in particolare l'overdose di una ragazzina di 17 anni residente in provincia di Pordenone colta da malore dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. Fiamme nella notte, un incendio nell'abitazione di Paderno del Grappa in via Fietta. Il robo sarebbe divampato per cause che sono ancora da accertare. Verso le 3 della notte e una signora di 90 anni, nella fretta di uscire da casa, si è ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste al lavoro per gran parte della mattinata per mettere in sicurezza gli edifici adiacenti e spegnere così gli ultimi focolai che erano rimasti. Un orso a qualche decina di metri, impossibile crederci. E invece l'unico concitato scatto fotografico di uno degli escursionisti ha confermato l'incontro. Un esemplare di orso è stato avvistato l'altra sera a Val di Preone. A incrociare il Plantigrado è stato un gruppo di escursionisti, fra i quali alcuni volontari della Proloco di Clausetto, compresa la presidente del Sodalizio Silvia Fabrici. Erano da poco passate le 20, quando in lontananza hanno visto apparire la sagoma dell'orso, uno dei ragazzi del gruppo, particolarmente l'estero, è riuscito a immortalarlo con il proprio smartphone, prima che l'animale, presumibilmente disturbato dalla presenza degli umani, sparisse nel bosco facendo così perdere le tracce. Solidarietà a pagamento e scontro sul concerto di Red Canziana di domenica scorsa. L'evento, a ingresso libero, si è svolto nell'area di Piazza Aurora ed è servito per raccogliere fondi per la riviera del Brenta colpita dal tornado dell'8 luglio scorso. grazie agli appelli dello stesso cantautore che ha invitato il pubblico a fare dei versamenti nel conto corrente messo a disposizione dalla Regione. Ma dai banchi dell'opposizione a sollevare la polemica il consigliere Daniele Bisonna che contesta la spesa sostenuta dal Comune per far svolgere l'iniziativa, ovvero 19.276 euro, 15.000 dei quali serviti per il compenso dell'artista, la cui capacità canore sono ovviamente indiscusse, attacca il capogruppo di opposizione, mentre altri 300 euro sono serviti per l'ospitalità. Spero davvero che quanto raccolto superi la cifra che il Comune ha pagato per realizzare questa serata. Ha concluso poi Bisonna. Allora ci fermiamo qui con l'edizione Flash, vi ricordo le 19, l'edizione di Trieste, 19.25 Udine Pordenone, 19.40 il telegiornale del Veneto Orientale. Vi ringrazio per averci scelti, vi ricordo l'appuntamento delle 17.30 di sabato in diretta da Fossalta di Portuguaro per la Santa Maria Assunta e quindi con la Santa Messa. Intanto vi auguro un buon pomeriggio con i programmi di Tele Antenna. A risentirci.